Come già sapete sono uscite anche le giacche, le mitiche t-shirt della linea Omisu Per lui, per lei, bellissime con una banda totalmente personalizzata Il logo gigante sulla schiena Omisu che significa acqua Edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio credo Grazie Questa è la seconda registrazione Kisuke perché la prima a quanto pare non l'ho registrata Però sappi che ho perso il terzo vive What's up? It's your boy, Electric Ciao bambini, come state? Questo è Electric Apu E questo, ah, loro non l'hanno ancora visto Perché questo è il nuovo pezzo, nuovi pezzi della linea Omisu che si espanderanno ad aprile Detto questo, Giulio tu sai perché siamo qui? Se ridi il video finisce Se ridi il video finisce, bella Questo video esiste perché il format stava girando in YouTube estero che io guardavo E poi i miei amici Meme Lord del gruppo Telegram mi hanno detto che lo fa anche il mitico Ratorix Che se andiamo a vedere proprio recentemente, ha pubblicato recentemente Quattro settimane fa Se ridi il video finisce durato due minuti e ventitré Oggi ragazzi vi do il benvenuto in proprio E Ratorix ha un'ottima performance e diciamo due minuti sono buoni Detto questo però, la mia performance sarà ancora più delicata Perché i video sono stati accuratamente selezionati da questo gruppetto Telegram di Meme Lord E da Kisuke, l'editor di questo canale Quindi, come potete vedere io ho questa playlist preparata accuratamente per me Si chiama Haha Funny Perpeo E io sono arrivato a vedere fino al sesto Perché questa è la seconda volta che registro questo video Hahaha, ho perso il sesto Comunque sia Partiamo quindi da qui e vediamo fin dove arrivo Fa male Non pensavo che facesse così male Trattenere La risata Quanto dura Per me è tutta la sigla Tutta la sigla? Penso proprio di sì Andiamo avanti Oh Nooo Questa Ah perdi Qui perdi Qui perdi Non mi smelta Ahahahah 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 Ahahahah